Salve a tutti appassionati di fumetti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebi, oggi facciamo un video particolare perché voglio fare felice un mio iscritto che ieri sera mi ha chiesto sotto il mio ultimo video di Zagor, dato che lui aveva recuperato i grandi classici del passato, voleva sapere da me le 10 migliori storie dell'ultimo decennio, quindi dal 2011 al 2021. Le ho appena selezionate, le vedete qua alle mie spalle, le ho prese così di getta sensazione e soprattutto in base ai miei gusti, quindi quello che vedrete di questa, non ho fatto una vera e propria classifica, facciamo un escursus storico dal 2011 al 2021 senza dire qual è la mia preferita, anzi dato che ci sono, ve la dico durante che, o ve lo dico alla fine, ecco, facciamo così, ve lo dico alla fine qual è la mia storia preferita dell'ultimo decennio e ricordandovi sempre che questa classifica è assolutamente personale, iniziamo subito quindi dopo la sigla. Allora, partiamo subito con una trilogia, uscita nel luglio 2011, sono i numeri 603, 604 e 605, corrispondendo ai numeri 552, 553, 554 e lo Zagor gigante, così se voi lo cercate nel sito Bonelli, la dovete cercare con questa numerazione, così vi potete leggere anche la trama, io vi faccio vedere solamente le bellissime copertine di Gallenoferri, lo scettro di Tianna, i negromanti di Cush e il dio della polvere. La sceneggiatura quindi è di Mauro Boselli e i disegni sono di Michele Rubini, vi faccio vedere così qualche immagine per farvi rendere un'idea, una storia molto particolare, con il mito di Atlantide, ambientazione molto bella, questa è una storia che veramente vi consiglio caldamente, questa qua, insomma, partiamo proprio dalla più antica. Adesso proseguiamo. Facciamo un salto nel 2013, abbiamo ancora la coppia Mauro Boselli e Michele Rubini, i disegni, i numeri sono il 626, 627 e 628, corrispondente allo Zagor gigante 575, 576 e 577, così potete andarvi a cercare la trama di questa storia, vi faccio vedere le copertine, il mondo perduto, lo scontro di Titani e il ponte sull'abisso. Faccio vedere il tenore dei disegni all'interno, che è simile naturalmente a quella che abbiamo visto prima, che è lo stesso disegnatore. Questa è una storia che mi è rimasta veramente nel cuore, fa un po' il richiamo al mondo perduto di Arthur Conan Doyle e vi lascio naturalmente il piacere di scoprirla. Allora, continuiamo con un'altra trilogia, quindi stavolta siamo nel marzo 2016, se non vado errato, sì, marzo 2016, i numeri sono i 659, 660 e 661, corrispondenti allo Zagor gigante 608, 609 e 610. Stavolta ai testi troviamo Moreno Burattini e ai disegni Marco Torricelli, vi faccio vedere le copertine, l'ombra del faraone, il tesoro della piramide, copertine sempre di Gallenoferri e prigionieri nel deserto. Come avete capito, vi faccio vedere in qualche tavola la storia, con uno stratagemma sarà ambientata nell'antico Egitto, Zagor se la vedrà veramente brutta, c'era anche un demone che veniva, che viene risvegliato, e insomma, vedete qui, insomma, si ritrova indietro nel tempo, veramente una bellissima storia. Allora, questa volta troviamo una storia che si articola in due albi, Terra Nova e Tra i Ghiacci del Nord, vi faccio vedere bene le copertine, stavolta come copertinista abbiamo Alessandro Piccinelli, ai testi troviamo Moreno Burattini e ai disegni Roberto Piere, i numeri sono il 670 e 671, corrispondente allo Zagor gigante 619 e 620. Come potete ben capire, è una storia che è ambientata nei ghiacci, nella terra di Baffin, se non vado errato, se ricordo bene, era una storia con un traditore, comunque sia, potete vedere qua, ambientazione marinaresca e con una storia tra l'altro anche drammatica per certi essi, mi ricordo che a un certo punto la situazione si fa disperata per i protagonisti. C'è Ronzagor non lo ricordavo con la barba, no, non era questo qua dove Zagor aveva la barba lunga, va bene, comunque sia, è una storia questa qua che vi consiglio certamente, fra le migliori e l'ultimo decennio. Allora, andando avanti, stavolta troviamo un Color Zagor uscito nel dicembre 2017, la copertina è di Alessandro Piccinelli, il titolo è Spettri per Digging Bill e il numero 6 del Color Zagor. Una storia scritta da Samuel Marolla e disegnata da Paolo Bisi, questo è un albo a colori, qua c'è il frontespizio, con il protagonista appunto di Digging Bill. Il Color Zagor sapete che inizialmente ogni singolo numero era dedicato a un personaggio del mondo di Zagor, in questo caso appunto è Digging Bill, una storia bellissima, incentrata su, come ho detto qua, Spettri, quindi ci saranno veramente degli Spettri, mi ricordo una bellissima immagine, con, vediamo, ecco se non è nell'ultima pagina perché spoiler, magari ve la faccio vedere, guardate che bella anche questa immagine qui. mi ricordo che c'era una scena illuminata sott'acqua, ma magari forse è meglio che non ve la faccio vedere, così se recuperate, ecco qua, c'era questa parte qui. Non era questa qua l'immagine che vi volevo fare vedere, ma questa tra l'altro è una protagonista, un personaggio che poi ritroveremo anche in una storia che vi farò vedere dopo. Insomma, questi qui, guardate, è una storia che mi è rimasta nel cuore, mi ha colpito. Mi ha anche commosso, devo essere sincero, quindi questa qua ve la consiglio, certamente. Allora, proseguendo... Proseguendo troviamo un altro Color Zagor, questo qua è dell'agosto 2018, il titolo è La giustizia di Wondering Fizzi, il numero è il numero 7, vedete qua nella costina. La copertina, come sempre, di Alessandro Piccinelli, la storia è di Giorgio Giusfredi, i disegni di Mauro Laurenti. Qui è un episodio che riguarda Wondering Fizzi, mi ricordo degli amici di Zagor, vi faccio vedere qua. Questa ragazza che è cieca e quest'altro, invece, che porta questa sciarpa davanti, perché... Vi faccio vedere questa immagine, che è molto bella. Ecco qua, questo è il motivo. Una storia veramente che vi consiglio. Ecco, in questa qua mi ricordo che c'era un'immagine in cui uno dei protagonisti ricordava tantissimo, soprattutto nell'espressione del volto, Terence Hill, eccola qua. Vedete, questa è, secondo me, veramente un omaggio a Terence Hill, con questa minica, con questo sguardo, con questi occhi azzurri, ve la faccio ancora più grande per farlo vedere meglio. E questa è una storia che mi consiglio al 100%, diciamo così. E' il turno adesso di un Maxi Zagor. Questo qua porta data del settembre 2019. I racconti di Darkwood, che vi ricordo sono iniziati nel 2017, sempre sul Maxi Zagor. Qui il titolo è I tamburi della foresta, i racconti di Darkwood, non c'è il numero, quindi non so che Maxi Zagor è. E' il numero 37, ecco, così lo potete andare a cercare. Qui ci sono vari autori, insomma, e anche vari disegnatori. Vi faccio vedere qualche tavola, perché sono praticamente dei racconti, una storia di base, di sottofondo, e poi, in questi racconti di Darkwood c'è sempre uno stratagemma, una storia di base, e poi uno stratagemma per poi raccontare delle storie. Ecco, mi ricordo, per esempio, questa qua è bellissima, scritta da Moreno Burattini e disegnata da Valentina Romeo. C'è un'immagine di questa indiana, guardate, ancora la ricordo a distanza di anni, la bellezza, non si riesca a mettere a fuoco bene, la bellezza di questo volto. Ecco, la telecamera in questo momento si rifiuta di mettere a fuoco, ma... e veramente senza... non ho parole per questi disegni, che io li trovo veramente... veramente bellissimi. Valentina Romeo, che poi ho saputo, o perlomeno mi hanno detto che disegna anche per Dylan Dogg, anche qua, questo Zagor, mi ricorda un po' le atmosfere di Dylan Dogg. Ecco, guardate che bello. Questo numero, però, lo ricordo, questo Maxi Zagor, perché ci fu veramente una completa rottura della griglia bonelliana. Guardate qua, per esempio. Qui, su un'unica pagina, non c'è assolutamente nessuna griglia, c'è una sequenza in cui Zagor combatte, e qua sembrano quasi delle fotografie buttate sulla pagina. mi ricordo di una carovana che si ribalta, eccola qua. Guardate che bella. Questa è in un'unica pagina. Faccio vedere prima l'interesse e poi faccio vedere il dettaglio. In un'unica pagina c'è questa... questa diligenza, ecco così, con i cavalli che... rotolano e si ribalta. Quindi guardate che è veramente una successione, come se fosse un film. Quindi qui ci fu veramente... poi qua, dettagli degli occhi... veramente, veramente... questo è un numero che vi consiglio di recuperare, proprio per questa particolarità, ma devo dire comunque sul maxi, su quando ci sono i racconti di Darkwood, i vari disegnatori fanno sempre un ottimo lavoro. Con questo consiglio e col prossimo sarò abbastanza scontato, perché è arrivato il momento di consigliarvi Zagor, le origini, in questa serie che è uscita nel giugno 2019 e si è conclusa nel novembre 2019. Vi faccio vedere in rapida successione le copertine, sempre di Alessandro Piccinelli. Il formato, ecco, il formato è leggermente diverso rispetto a un classico albo, come vedete qui. Anche le pagine sono di albi di 64 pagine ciascuna, sono anche queste qua. Sono a colori, vi faccio vedere però le copertine se non me la dimentico, quindi Zagor le origini numero uno, il numero due, il numero tre. Questo, se volete, ci sono anche dei cartonati che sono usciti in libreria. Il numero quattro, il numero cinque e il numero sei. E un mio consiglio personale, io vi preferisco questi albi così singoli rispetto ai cartonati, perché li ho sfogliati in libreria. Il disegno viene ingigantito, secondo me, anche con la colorazione. si perde un po' la bellezza, secondo me questi qui hanno una grafica migliore rispetto a quelli che ho visto i cartonati in libreria. Qua, se volete scoprire appunto le origini di Zagor, questo qua, se siete, se volete recuperare un po' della storia del personaggio, lo apro bene, questa sicuramente è una serie da da recuperare. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, anche in questo caso sarò scontato, Zagor Darkwood Novels, le precedenti, Zagor le origini, non ve l'ho detto prima, e le Darkwood Novels che sono scritte da Moreno Burattini, vi faccio vedere in rapida successione le copertine, questa è la numero uno, qui il formato è simile a quello dell'albo che troviamo noi in edicola, però il numero di pagine è ridotto, anche in questo caso sono 64 pagine, ma stavolta è stata fatta in bianco e nero. Questa storia, nel frattempo parlo, vi faccio vedere le copertine, la numero uno, anzi no, sono meno difficile, la numero due, il vento della prateria, la numero tre, la banda dei Metis, il numero quattro, Bersaglio umano, tra l'altro questo qua è stato il mio preferito, il numero cinque, Harbour Ranch, e questo è molto particolare ragazzi questa storia, perché se non vado errato tratta, se ricordo bene, il tema dell'omosessualità, e il numero sei, invece, Fiore della Notte, questa è una serie che è stata fatta appunto per mostrare uno zagor diverso da quello che abbiamo visto, da quello che abbiamo, siamo stati imparati a conoscere, abbiamo imparato a conoscere, scusate, e sono storie molto veloci, molto, molto secondo me anche emozionanti, anche molto emozionanti, questa, questa, questi raccogli, guardate che bella qua, questo ancora, se ci penso, mi emoziona, guardate questo, questo puledro, guardate questo puledro qua, qua c'è il parto, rappresentato benissimo, questo si alza, poco a poco, sta sulle gambe, guardate quant'è espressiva questa, la faccia di questo puledro, con sua madre, e poi cerca naturalmente il mangiare, veramente, ora magari a poco a poco mi affiorano i ricordi su questi numeri, ma vi lascio il piacere di scoprirlo, io vi do solamente il consiglio, recuperatela. Questa è l'ultima storia della nostra carellata, è uscita nell'ottobre 2020, quindi ottobre e novembre 2020, quindi abbastanza recente, un anno fa, ecco, Zombie a Darkwood, e la sindrome di Belzebul, i numeri sono il 714 e 715, corrispondenti allo Zagor gigante, numero 663 e 664, qui è soggetto e sceneggiatura di Samuel Marolla, i disegni di Paolo Bisi, che abbiamo già visto in altre storie che vi ho consigliato, questa, se amate gli zombie, non ve la potete far scappare, guardate che, tra l'altro che dettagli, io ho detto non sono un amante né dei vampiri né degli zombie, ma quando le storie sono disegnate, sceneggiate, rappresentate bene, coinvolgenti, non posso far altro che apprezzare anch'io, ragazzi, tra l'altro qui ricordo un cico veramente strepitoso, ogni cosa che fa veramente fantoziana, mi ha fatto veramente morire da ridere, veramente le scenette sono molto azzeccate, va bene, avete capito, guardate qua che dettagli esplode l'occhio, insomma, un numero molto molto horror, quindi questo qua è da consigliare certamente agli appassionati del genere. È arrivato il momento di mantenere la promessa che vi ho fatto all'inizio e vi svelo la mia storia preferita dell'ultimo decennio, ed è questa qui, Il mondo perduto, con questa storia che si articola in tre albi, ricordo che è scritta da Mauro Boselli e disegnata da Michele Rubini, è una storia che mi è rimasta impressa nella mente addirittura perché Mauro Boselli in questa storia inventa una nuova lingua e mi ricordo che leggendo ho addirittura appreso il linguaggio. È una veramente avventurosa, appassionante, emozionante, quindi se volete recuperare anche una sola delle storie che vi ho consigliato con questo video, recuperate assolutamente questa. Detto questo, spero di aver fatto contento la persona che ieri sera mi aveva iscritto con questa top ten dell'ultimo decennio. Noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao! Ciao!